Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi propongo un progetto di elettronica digitale di tipo tradizionale. Non utilizzeremo quindi il solito Arduino ma dei circuiti integrati di tipo generico. Nonostante questi circuiti siano stati ormai soppiantati dai più pratici microcontroller, trovano ancora impiego in molti campi, per cui conoscerli è molto importante, e se non altro anche dal punto di vista didattico. Prima di proseguire volevo invitarvi, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale e anche a lasciare qualche commento se trovate i video interessanti oppure anche in caso contrario. Vi auguro una buona visione. L'integrato alla base del progetto che vi presento è il 4017. Si tratta di un circuito appartenente alla cosiddetta serie CMOS 4000. Questa denominazione deriva dal fatto che gli integrati di questa serie sono identificati da un numero di quattro cifre che inizia sempre con 4. A seconda del produttore lo stesso circuito può avere nomi che si differenziano per le lettere del prefisso. Qua vediamo un modello prodotto dalla ST che è marchiato HCF4017. Potete però trovare lo stesso circuito con nomi quali CD4017 oppure HEF4017, come nel caso di questo Philips. Si tratta in ogni caso di componenti del tutto equivalenti. Dal punto di vista elettrico la serie 4000 è caratterizzata dal fatto di poter funzionare con un'ampia gamma di tensioni di alimentazione, in genere da 3 a 15 volt. Esistono però anche delle versioni di questi integrati nate per essere compatibili con i circuiti di tipo TTL in cui la tensione di alimentazione è limitata a 5 volt. I nomi in questo caso hanno la parte numerica uguale ma un prefisso che di solito è 54 o 74. Qua vediamo il datasheet dell'equivalente TTL dell'integrato che stiamo usando, il 74HCT4017. Se usate questa versione mi raccomando che la tensione massima ammissibile è 5 volt. La serie 4000 comprende moltissimi modelli. Si parte da semplici circuiti composti da alcune porte logiche elementari fino a modelli in grado di svolgere anche funzioni molto complesse come contatori, divisori o driver per display. Vediamo allora qual è la funzione specifica del 4017. All'interno di questo circuito troviamo un contatore Johnson che è un particolare tipo di contatore binario e un decodificatore decimale. Applicando un segnale all'ingresso di clock il contatore Johnson avanzerà ad ogni impulso partendo da 0 fino ad arrivare a 9 per poi ricominciare. Il decodificatore in base a questo conteggio andrà a portare a livello logico alto in modo sequenziale quindi una dopo l'altra le 10 uscite. In questa immagine possiamo vedere la piedinatura dell'integrato. Per prima cosa abbiamo i terminali per l'alimentazione. Il piedino 8 indicato con VSS è il terminale negativo mentre il 16 indicato con VDD è il positivo. Il piedino 14 è l'ingresso di clock mentre il 15 serve ad azzerare il contatore portandolo quindi a livello alto il conteggio ripartirà da 0. Abbiamo poi le 10 uscite numerate da Q0 a Q9. Attenzione perché la numerazione non corrisponde con quella dei piedini dell'integrato ma segue un ordine apparentemente casuale. Vediamo adesso un semplice circuito per dimostrare il funzionamento di questo integrato. Ai piedini 8 e 16 come abbiamo visto dobbiamo applicare la tensione di alimentazione. Sulle uscite andremo a collegare gli anodi di alcuni led. Non è necessario utilizzarne 10 ma per semplicità mi limiterò a metterne solo 5 utilizzando quindi nell'ordine le uscite da Q0 a Q4. Se avete voglia però potete anche collegarle tutte quante. i catodi dei led vanno poi collegati fra loro e portati a massa tramite un resistore. Da calcolare questo in base alla tensione di alimentazione. Se usate una pila da 9 volt può andare bene un valore da 560 o 680 ohm. Ora dal momento che alcune uscite non vengono usate dobbiamo fare in modo che quando il contatore arriva all'ultimo led ricominci da capo. Per fare questo basta collegare la prima uscita inutilizzata, in questo caso la Q5, al piedino di reset ovvero il 15. In questo modo il contatore andrà da 0 a 4 e poi ripartirà da capo. L'ultimo collegamento riguarda il piedino 13. Questo servirebbe per disabilitare l'ingresso di clock. Quindi per un utilizzo normale va semplicemente collegato a massa. Ricordatevi di farlo altrimenti l'ingresso di clock non funzionerà. A questo punto possiamo fare un primo test del circuito e scopriremo alcune cose interessanti. Ho realizzato il circuito su di una breadboard su cui avevo anche già montato un regolatore di tensione da 5V. Questo è strettamente indispensabile solo se utilizzato una versione TTL dell'integrato cioè un 74HC4017. Il mio è un normale CMOS quindi avrei potuto benissimo alimentare il circuito semplicemente con una batteria da 9V. Ora dal momento che non ho collegato nessun segnale all'ingresso di clock mi aspetto che il circuito una volta alimentato si limiti a portare a livello alto la prima uscita e a rimanere in questo stato. Come potete vedere invece il comportamento è ben diverso. I led si accendono in sequenza ad un'altissima velocità. Questo dovuto al fatto che l'ingresso di clock ha un'impedenza molto alta per cui lasciandolo scollegato risulta sensibile ad ogni genere di interferenza. In questo caso probabilmente è sufficiente il normale campo elettromagnetico generato dall'impianto elettrico a 50 Hz per stimolare il contatore. Per ovviare a questo problema ho messo un resistore da 10 kOhm fra l'ingresso di clock e la massa in modo da tenere il piedino stabilmente a zero. Vedete che in questo modo il circuito si comporta come dovrebbe in assenza di segnale per cui abbiamo solo l'uscita zero che rimane a livello alto. Ora proverò a fornire manualmente degli impulsi di clock andando a toccare brevemente il piedino 14 con un cavelto collegato al positivo di alimentazione e anche qui avremo delle sorprese. Vedete che quando tocco il piedino il conteggio non sempre avanza semplicemente di un passo anzi molto più spesso si verificano dei salti. Questo è dovuto al fatto che prima che i due terminali entrino completamente in contatto si verificano alcuni impercettibili rimbalzi della durata di pochi microsecondi che vengono però interpretati dall'ingresso digitale come una serie di impulsi. Questo fenomeno si verifica anche con pulsanti e interruttori e viene spesso sottovalutato soprattutto da chi è alle prime armi creando poi moltissimi problemi. In questo caso si può provare a mettere semplicemente un condensatore in parallelo all'ingresso di clock e come vedete il problema si riduce molto ma in genere la soluzione di queste problematiche richiede un attento studio della situazione. Ma torniamo adesso al nostro progetto. Per fornire un segnale di clock stabile utilizzerò l'intramontabile timer a 555 nella classica configurazione di multivibratore a stabile. Si tratta di un integrato arcinotto su cui penso che non ci sia da dire granché. In rete esistono già migliaia di schemi, video e tutorial dedicati all'argomento. Qua noterete che manca il condensatore che viene messo di solito sul piedino 5 ma direi proprio che in questa situazione è superfluo per cui ho preferito semplificare il circuito lasciandola da parte. I valori dei componenti non sono assolutamente critici. Qua vedete i valori che ho utilizzato io che sono stati scelti più che altro in base a quello che avevo a portata di mano al momento. Ma potete anche fare degli esperimenti cambiando il valore del condensatore o delle resistenze per ottenere conteggi più veloci o più lenti. L'uscita del 555 ovvero il piedino 3 va semplicemente collegata all'ingresso di clock del 4017 ovvero al piedino 14. Per cui lo schema completo del circuito risulta essere questo. Manca solo il regolatore di tensione che come dicevo io ho utilizzato ma non è indispensabile. Ora metto anche lo schema pratico delle connessioni sulla breadboard per chi non ha molta dimestichezza con gli schemi classici anche se in questo caso secondo me crea più confusione che chiarezza. Comunque se volete eccolo qua. E per finire ecco il circuito completo montato e pronto al collaudo. Io cerco sempre di fare dei collegamenti a misura in modo da avere un risultato un po' più elegante ma rispettando lo schema il circuito funziona benissimo anche facendo un groviglio di ponticelli dal momento che non è assolutamente un circuito critico. Anzi come vedete qua vedo adesso che ho dimenticato il collegamento tra il piedino 4 del 555 e il positivo ma il circuito funziona ugualmente. Voi comunque mettetelo perché serve. Bene per questo video è tutto. Io vi chiedo scusa se mi sono soffermato un po' troppo su alcuni aspetti molto tecnici ma non volevo fare il solito video prendete questi componenti metteteli così e attaccate questo filo qua e quest'altro là. L'aspetto fondamentale di questi esperimenti è comprenderne il funzionamento perché vedete che anche dietro circuiti molto semplici come questo a volte si nascondono delle insidie. Bene non mi resta che salutarvi invitandovi di nuovo a iscrivervi al canale e darvi appuntamento ai miei prossimi video. Ciao a tutti